Anche prima ci aveva messo un po', eh. È partito? Sì, 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 sì. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ma che cazzo è scatto fasico su Kennen? Vincenzo! Eh! Come vuoi che lo giocassi. Andiamo, andiamo. Vabbè, io scalo. Non è bravo con Kennen, non è bravo con Kennen. Allora, la cosa importante adesso è, vabbè, il Black Cleaver, sicuramente, perché ci abbiamo... Vabbè, in realtà, sì. Puoi fare, tipo, anche Midlane, penso che Black Cleaver la farei comunque, quindi... Sì, magari faccio secondo item. Sì, 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 va benissimo. Fai Core Drinker, Black Cleaver. Ma conta che contro la loro comp, se tu sei even nella partita, non ti tirano mai giù. In fight. Se può usare un me, ovviamente. Faccio la build giusta, non vado Lethality. Ho messo anche doppia tenacia nelle rune. Occhio che potrebbero... Vabbè, la invade loro, fa schifo. No, è bruttino il loro invade. In bot side potrebbero farlo, basta. Sì, occhio bot, sono forti. Anzi, se mi guardate, forse è meglio. Dove? L'invade di V? Eh, non posso usare bot e rubare i miei campi, cioè, devo fermare io. Non so se potete. E poi... Dove, dove, dove? Non lo vuoi. Dove, ovunque, qua. Basta che si vede il campo. La metto io, la metto io, la metto io, vabbè. Andiamo a darmi leesh con Garen, intanto non c'è nemmeno, braio. Arriva, arriva, arriva. Ti faccio un leesh di E, cuzzolo. Tanto probabilmente per i primi livelli dobbiamo divapparle qua, non c'è molto da fare. Gatti uniti, passiva su un po', intanto auguri. Sì, sì. Vabbè, it's fine, it's fine. No, no, te lo tengo, te lo tengo. Vai, vai, vai. Bye, vai. Thank you. Yeah. Yeah. No, 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 no. No, 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 no. Top forse, ma non saprei. Avrà saltato in solo a bot side, allora? Verso un po' di me, non vedo. Ok, io ho livello 3 di vai, ma non dovrebbe, però occhio, può guncare. Allora, i due. It's fine. Ti riesci a guardare il raro rapper, non so se puoi, però occhio a non andare così come un volo, tu puoi essere gancato. Vabbè, non puoi essere gancato, forse. No, adesso no. Sì. Otte miss, occhio. Ma non mi stanno adesso. No, no, non andare in... Ah, il raro jungle, il raro jungle è qua. Arrivo. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Ci ho per io, arrivo. Vinite, vinite. Vinciamo, vinciamo 3-3. Sì, 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 sì. Vinciamo, 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 vinciamo. Vinciamo, vinciamo sempre, guys. C'è Nasus. Beh, piano, 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 se puoi andartene, se ne vai. Benissimo. Possiamo vincere ancora, eh? Ok, non off. Ok, ok, mi testo. Mi fermo la mano, guys. Eh, sì, sto facendo il 3. Sto facendo il 3 e arrivo. Tanto loro non c'è, non c'è, ciò. C'è la hiper, per quello che vuole se ti invade. Ha preso una auto, la killer, ragazzi. Word, è andato ben io. Sì. Qua sì. Buono, buono, buono. Ha anche flashato? Qua c'è la Word, mi servirebbe un po' di cover. Che devo fare? Potrebbe... Arrivo verso di te. Ah, molto difficile che sta lì, eh. Eh sì, è qui, è qui, è qui. Guarda, guarda, guarda. Sto arrivando, sta arrivando. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Vinciamo, eh. Quale è il campo? Ti vinci, ti vinci, ti vinci. Ho Alex Host, ho Alex Host. Vai, vai, dritti, dritti, dritti. C'è lei, Fieric? Eh, no, però c'ho flash. Buono, buono. Posso arrivare, posso arrivare, posso arrivare. Vai, vai, c'ho l'ignite, c'ho tutto. First target. Io non ci sono, guys. Oh, bello. First target, vieni, vieni, vieni. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Non fanno un cazzo, non fanno un cazzo, sono inutili. Cinque secondi, c'ho la E. First target, first target. Uccidono tutti. Oh, ok. Morto, morto. Ottimo. Ah. Oh. Mamma mia, mamma mia. Il mio culo. Il leone. Questa roba qua non deve funzionare comunque. Mi sono cagato addosso. Faccio cos'è. Tutti in atto, piatta. Questa roba. Abbiamo fatto un cocco gatto, io e i Tomy che... Mamma mia. Adesso il nostro obiettivo è semplicemente arrivare al 6 senza fare altri fight e il game è finito. Vero, vero, gillate, guys. Gillate, gillate. Super easy, ora. A me se non c'è la morta. Ok, dopo Fieric, ho i Tomy. Spara sarà qua, occhio. Vai back top. No, no, vado via, sì. Devo solo show up. No, ma tanto... In realtà se ti cancola lo vado come a sciotti, eh. Ok, ok, ok. Go, 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 go. Ehm, vado a mettere un po' di viso. Ok, buono, buono. Io non posso guardare qua, eh. Non c'ho la guarda. Questo può venire mid. Io sono anche 4. Lui è top speed. Forse ha lo scatto. O forse nemmeno. Se c'è il blue brand, lo trovi da quelle parti. Io ho guardato. Zennifer è due livelli su qui. Non so dove sia. Occhio. Non so perché il pack che ha fatto è fucking weird, ok? Pusho top io. Mid, top, top, top? Ce l'abbiamo? Mid, top, 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 top. Lo guardiamo, lo guardiamo, lo guardiamo. Andiamo, 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 andiamo. Occhio mid, sono mid, sono mid, sono mid. Sì, sì, sì. No, sono bot. Con Nautilus. Con Nautilus. Non posso fare nulla, tranquillo. Pensione Nautilus, no? Ok, qui Nautilus. Siete 3v3, siete 3v3. Basta, basta. Eh, peccato se arriva un secondo prima, ce la facciamo. Sed. Bravo comunque. Sai cos'è? Che sarà il cosino il Gromp. Quindi mi sono cagato addosso. Vabbè, vabbè, vabbè. Il Gromp fa paura a volte, ti capisco. Dov'è B? Dov'è B? È ricollato, è ricollato. E ora, non so se va straight top o va il Golem bot. Potrebbe andare, prendere il Golem bot. E' impatti buccio. Vediamo di guardare. Occhio mid. Ma sei fine, in realtà, se ti canca l'ammazzi. Guardi l'horo, Raptor. Ma guardi top. Non ce l'ho. Ho guardato top. No, 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 no. Merda, non ce l'ho per me. Ok, ok, ok. Face, rush, flash, tutto up. A tutto, a tutto. VL Blue. VL Blue, l'hai vista? No, quello qua, quello qua. Com'è la bot prior? Big. Guardi, abbiamo perma. Non vincono più due. Eh, io vorrei quasi invadere, vorrei. V mid. Vimid. Vediamo, vai. Vai, dovrebbe essere... Sta facendo la bot su Nilsu Red. Io dopo questi due campi sono al 6, posso iniziare a giocare. Ok. Io mi serve un'altra way. Mi seconde, mi seconde. No, occhio, occhio. Mi seconde. Ok, top. Prossimo way, faccio il 6 e possiamo fare quello che vogliamo in bot. Hanno regalato l'oro? Io te la sto tenendo, mid, qua. Questa Nautilus, forse è regalato. Questa Nautilus, ma è beccata, è beccata. Vuoi fare il Drago, qua, no? Mi serve un'altra way per il 6. Possiamo invadere, actually. Puoi andare a quella, ma non ci dire... Vai. Io vado back, vado back, tipo. Dobbiamo prendere il primo mid, non ce l'ho ancora. Puoi venire il Drago? Posso venire il Drago, che ho il TP. Nautilus bot. No, no, se lo fai te non muoiono, se lo fai te non muoiono. C'è anche vai, c'è anche vai, c'è anche vai. Arriva, arriva, arriva. Arriva, arriva, arriva. Manca Nasus, è qui. Nasus, TTP, 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 TTP. Vieni, non ti preoccupare, vinciamo sempre. Volete il Drago? Io mi... Arrivo. Arrivo a P. Giratevi su di me, giratevi su di me, se riuscite. Il Morta. Holdatelo, holdatelo. Drago, Drago va bene, sono riusciti a cessare. Drago va bene. Benissimo, benissimo. Ti ho preso la shutdown, la presa P. Non è anche. Il naso sbotto. Mamma mia, Jennifer. De Machia! Mamma mia! Mamma mia! Che forte, Sgoo! De Machia, che ne ho detto! Sì, sì, sì. Non hanno rubato Garin, se ne pentiranno. Forse la bestemmia è un po' too much, posso dirlo? Se l'emozione. Forse la bestemmia era un po' too much, vabbè. Ma poi rimuoviamo. Io devo ricollare. Ricolla, ricolla, ricolla. Quella qua, ricolla, ricolla. Sorry. Ok, ok, un autrus mid, sono 3 mid. Occhio a te. Morca miseria, dovevo andare back. Ho interrotto il back perché neanche avano 100 gold. Hai fatto bene, allora. C'è un autrus qua ancora. Allora, niente. Top, vai, top, vai, top, vai, top. L'herald. It's fine, l'herald. Yeah. Ok, se giochiamo sui nostri cooldown, con le nostre ultime non perdiamo mai. 5-7 la R. Io ho troppi soldi, mi servirebbe una mano per pushare qui. Vai, vai, ricolla, ricolla. Lascia perdere. Con la wave così? Quelli ricolla. Aspè, ora arrivo, ora arrivo io. Ma non, ricolla, è ovvio che era un bait. Quanti colt'ho già arrivato? 2000. Ok. Ma comunque non avrei paura mid. Ora arrivo. No, ma non ho paura, è perché... Non vorrei andare back e prendermi una wave. Adesso aspettiamo le mie summoner e poi possiamo giocare. C'è vai niente, ci sono anch'io, non avrei paura. Di bye, intendo. Penso di fare la prossima wave, resettare e poi possiamo... No, ma a me basta pushare e andare back. Ok. Hai lo stun? Eh, sì. Va bene, ci sta. Volevo solo andare back, sono pieno di soldi. Vai. Eh, lascia, 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 Aleccio. Ho troppi soldi. Sì, tante. Ho sempre voluto. OTP se serve. OTP e R se serve. 15 secondi o anche... Puoi fare due campi in to bot, però? Bene, sì. Che scrap mi faccio, ragazzi? Avete consigli? Io andrei a Marex. Mercuri, 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 Mercuri. Vai a trobillato. Vai a trobillato. Focussate sempre vai. Cringe quella roba lì. Beh, Trinity sta facendo. Ah, se è Sunderer ma ci viene instashottata. Ma al Sunderer non si fa con questa. Trinity. È Trinity? Sì, è cringe. Ok. Focussate sempre lei e more instant. Vai a mid. Ok, i bot non perdiamo più. Però vengo ad avere bot, direi. Andiamo con Renetron anche. Vai, i bot. C'è l'herald, volevo le mettere probabilmente. Non credo che metta l'herald, così, più onest. C'è per lo scattolo. Ok, mid. Arriva la data in mid. Sì, sì. Ma guarda, ha ultato lui. Ha ultato? Ulti Naso, sì, sì, sì. Ah, Naso senza ulti è inutile. Guarda. Ho il TP io, ragazzi. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Guardate, guardate, guardate. Sì, voto, voto. Scusate, 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 scusate. Scusate. 200 di B. È riscliczata. Arrivo. Ok. Sì, pinghi. Ah, va bene però. Ok. Eh no, vabbè. No, no, va bene, va bene. Non è il mio nome. C'ho il ping a 200, 300, 355, sto laggando. Ok. Un attimo. Non parliamo del game durante la pausa. Ok. No, no, io sto memando Jennifer. Ho un problema. Ci sono 200 di ping fissi. Non ci capisco un cazzo. Allora, vai a chiamare Fabio. Filippo lo... Capirai dove è Fabio. Aspetta che... Aspetta che ve lo arrivo. Mi muto un attimo. Vabbè, di cosa parliamo nel frattempo? Diciamo che il fight così vicino a noi mi... Io sento i suoi, sento... Io sono tra la vita e la morte in questo momento. Boys, ci proviamo, andiamo? Proviamo 80, però ci proviamo. 80? Aspetta un attimo, non c'è nessuna fretta. Non c'è fretta. Hai detto rally. No, no, ci sono. Si è passato, sto posto. Ok. Siamo? Tipo? Allora un po' uso. Ready, guys. Siamo. Tipo, tipo, tipo. Tipo bot. Vado. Qua? Doveste vincere, doveste vincere. Arrivo, arrivo, arrivo. Flash, flash nel caso. Ma devi tipare bot? No, ma devi tipare bot. Porco d***o, sbagliato, sbagliato. Top gap. Vado top. It's fine, it's fine, it's fine. Non hanno... Non prendono nulla. Puoi pushare, sì. Vai back top, Jennifer. Non c'è nulla per me. No, potrebbe lasciare. Wait, wait, wait. Vuoi provare un bebot? Vai tu top. Vado top, vado top, vado top io. Arrivo, 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 arrivo. Io sono final cash. Arrivando. Su V, su V, su V, su. Ah. Cinque secondi a lei? Vieni su di me, aiutami. Ok, flash. Va bene, va bene. Flash di... Vai top, vai, vai. Andami qua. Attenzione, via, attenzione, via, attenzione. Non andrei, non andare. Masta, basta. Vai mid, mi vai difendere mid. Io, io, vado, vado, vado. Ma, vabbè. Aspettate, posso procurare di demolish? Vado bot, vado bot, vado mil demolish. Ma, mate, 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 vai mid. Vabbè. Bro, 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 tra. Tra, tra. Dai, dat. Vado mid. Mi prendono niente in bot, vai tra. C'hai mid, vai tra, arrivo. Ci risuappiamo? Adesso vado io mid, adesso vado io mid, andate voi inside. Ok, vai bot allora, Jennifer. Yeah. Arrivo mid. Il dragon set, devi divinere anche tu per Anelton, però. Oh, shit. La push a sta wave? Eh, push a lei, vieni, dai. Tanto non credo la rush, no. Se la rush, non perdiamo il drake, cazzo. Devo beccare. C'è prima. Sì. Vado beccare. Andiamo, se fanno l'ultimo. Potrebbero andare. Abbiamo una ward. Io non ho summoner. Sto andando dritto, eh. Arrivo poi. Sì, ma abbiamo tutte le r-up con le ward. Sola r, sì, sì. Andiamo, andiamo, lo stanno facendo, lo stanno facendo. L'ho iniziato adesso. Naughty non ha flash. Sono primo, sono primo, sono primo. Ci sono? Posso andare su Minuzzi, è passato su Minuzzi. Guarda io, guarda io. Minuzzi out, Minuzzi out. Ci vediamo, però. Ci siamo? Quattro v cinque. Quattro v cinque, eh. Slow. Buono, buono, buono. Perfetto, holdiamo mid. Quale ho fatto io? Sì, è bene. Ha ultato Minuzzi. Ulti di Nasus, sì. Eh, l'ho hitato io, qual è, evidente? Ah, l'hitato. Ah, l'hitato. Vai back, quella. Non c'è una cascata. Riassegniamo le lane, guys. Per favore, ascoltate. Vado top. Il game non è vinto, eh. No, no, no. Focus fino alla fine. Ok, fallback. Io vorrei giocare più side, ora che ho lo spezza passi. È roto per l'herald, se volete. Vai risettando. Potrebbero lasciare... Oh, guarda vai. Allora, teoricamente, ragazzi, adesso quello che mi serve è il secondo item per fightare nel full 5v5, perché sono molto avanti, ma non è che sono ancora fortissimo, senza... Prendi il rettink? Bravo. Io non ho tutti ancora. Quindi, il nostro obiettivo adesso è semplicemente aspettare queste quelle 400 gold e per il resto non outscalano. Ok, ok, ok. Aspettiamo così si fa. Sì, Alex. Scusate me, però hanno vai full cringe build. Se vogliono semplicemente one shotare... target non dobbiamo sempre one shotare, vai. Quindi, l'importante è che restiamo uniti. Se siamo uniti non vinciamo. Sto l'occhio all'ulti di Kennen. Non ho da l'altro. Adesso vado stopwatch appena possibile. Eh, io ho preso la campana, ok? Di top, v top? Sì. Mettete una ward. Nato sminte. Nato sminte. Anche io. Una ward. Non ho soltipi, guys. Vai qua. Guardate, guardate. Sì, sì. Andiamo a top Ryan. Sì. Il Ryan e il Myral. Ma in realtà non abbiamo bisogno di fare play in questo momento. Sei forte, bravo. Rai, io... Rai, io... C'è più tempo, basta. Rimaniamo? Non serve, non serve prendere obiettivi. Usa l'accudo pochetti slow, va. Io posso arrivare, se vuoi play dare. Cioè, play da me, ma sono fine. Sono fine. Qualcazzo. Guardami, guardami, guardami. Ti guardo, tipo, tipo, tipo. Vado, 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 vado. Kennen TP, Kennen TP qua. Ok. No, ma continuo, continuo. Continuo, continuo, continuo. Non ha flash. Kennen dietro, Kennen dietro, Kennen dietro. Ok, Kennen. Ok, Kennen. Ringaggiate dopo. Ok, bello, bello, bello. Ash è morta. Dai, è buono, è buono, è buono, è buono. Ok. C'è ancora renekton, ma non serve fightare. Cioè, il drink tra due minuti e adesso. Prendiamo cosa, abbiamo vinto il fight. Prendiamo Eral, prendiamo Eral, scusate. Gioco il break, ragazzi. Sì, è alde, 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 alde. Bonendo. Sto arrivando. Io ho bisogno di altri 300 gold. Ah, io non giocherai side con Garen in questo game. Loro vogliono semplicemente di infighterci e ingaggierano a spam. Ok, ok, ok. Prendi item che ci pernò a giustare. Però lo sanno che siamo qua, eh. Sanno? Eh, ho tolto una guarda. Io avrò poco al Mikael. Che non leva la soppressione, ma almeno ti leva Ashi e Cannon. Sì. Ma sai che in realtà no? In realtà no. Non fare Mikael, fai... Fai Vau. Che? Vau. Nice Vau. Votto del Cavaliere. Ok. Beh, però Asher, scusa, non è comodo il Mikael. Sì, ma c'ho il cleanse, già. E poi le RGC sono pochi, alla fine. Possiamo giocare attorno al mio cleanse in questo momento. Che top. Ventre il Vau mi toglie il boss. Sì, 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 sì. C'è qualcuno top sicuro. Vado back. Ho il Lavori dopo sto... Dopo sto... Puscio mid e c'ho il Lavori. Ok. Vai a pat Serpent's Fang. Veramente è una build patetica. Cioè, se la Pusso ti muori sempre. Ok. Ok, non fatti per tu fare mid. Che non hai sound. Andiamo Drake. Me ne vado, me ne vado. Io so, top, ecco, ma vado Drake. Ok, siamo un po' in ritardo per il Drake, in realtà. Quindi cerchiamo di... Di andare S5. Io ho botto pushato. Sì, vieni verso di noi. Vieni verso di noi. Ho flash R. Dobbiamo entrare nei bush in 5, praticamente. Ok, gara è in avanti. Allora sono... Allora sono con l'Isker. Vieni con noi, vieni con noi. Allora, Kennen ha lo stopwatch, ricordatevi. Vediamo, vediamo. L'importante è che one-shotiamo vai. Se one-shotiamo vai, il game è finito. Per l'altro. E bisogna andare qua, Darren? Renekton? Can vi stop? Vai, vai, entriamo, entriamo, entriamo. Siamo più grossi. Ah, vai, vai. Andiamo, andiamo. Vai, vi spari l'Ital. Vai, vai, vinciamo, ciò sempre. Sempre, sempre, sempre. Guarda, c'è sulla qua. Minutes. Sessoooooo! Credible! Nasher, 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 nasher. Fa Drake, fa Drake, nasher, nasher, nasher. Posso andare bot? Posso andare bot? No, no, vieni con noi. Vengo, 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 arrivo. Dovevo fare veloci il nasher. Ce la facciamo, 15 secondi, via. Andiamo, 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 siamo forti, siamo forti. Puscio mido. No, vieni con noi, vieni con noi. Vieni con noi, vieni con noi. Vieni, Tommy. Resta con noi, Resta con noi. Devo lasciarla, devo lasciarla. Yeah, arrivo. Sono aspettati. Vieni del bar, vieni del bar. Vieni del bar. Vieni del bar. T'ho dato, ho dato. Out, 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 out. Buonissimo. Oh, posso andare? E io ho lasciato, io non ho nulla, non ho nulla. Via, 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 se riuscite per aumentare il vent'aluto. Non pensavo continuare. Ok, questa l'abbiamo killata. Oh, c'ho la ulti però adesso. Ora può essere buono, eh. Di qua, da me, da me, da me. Oh, uccite, uccite, uccite. Madonna, se sopravvivevo, dio p***o. L'obiettivo è andare out, ragazzi, eh? Occhio, occhio, poi sì. Eh sì. Il fringage era bruttissimo. Eh sì, è colpa mia, ragazzi. Va bene. Comunque, non è importantissimo. Non è importantissimo. Abbiamo sempre l'headgame. E abbiamo il tempo advantage per il Draco, adesso. Oddio, tp off. No, lo fanno loro, il tempo advantage abbiamo, io spawno 3.20. Siamo un po' il Draco, un bounty. Sceliamo un attimo, regruppiamo. Ma quanto hai l'idem, però? Eh, ancora rimanco un po'. 500 gold un po'. Facciammi i campi, please. Tengo il push in doppio. Eh, che mi serve pure a me. Non ci arriviamo per il Drago in tempo? No, no, ma rischiamo di fecceccare di nuovo. Siamo... Ma per fecceccare siamo assi bene noi, eh. Io sto tp ponendo se sei certo. Mettere l'herald mid. Fa anche l'herald mid. Ruota top. Vedi, non me. Ok, ok, ok. Pusha top io. Ci metto il... Puoi push quella wave, ruota? Naso lo lasciamo bot? Credi sì. Eh, sì, però dobbiamo fightare se lo lasciamo bot. No, pushere herald mid. Puoi pushere herald mid, top. Lasciamo hard. Abbiamo l'herald. Ok, per fecce ho la top. Non è così. Teniamo bot e resettiamo, guys. Dovevo continuare mid con l'herald? Tengo la top pushata io, poi sì. Abbiamo un altro... Un altro... Un altro round. È stata la tira. Un altro spawn? Poi basta. No, 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 no. Dobbiamo andare bot adesso, ragazzi. Dobbiamo andare garen. Tipo bot? Tipo tp di garen. Tipo bot. Posso cercare di... Se lo chasi? Stesso, stesso. Possiamo anche ucciderlo, eh. Vado, vado, vado. Basta che non ci muore. Occhio potrebbe arrivare a volte di ascia. Potrebbe arrivare a volte di ascia. Eh, sì, it's fine. C'è il flanso. Ci stanno chiudendo, ma non è importante. Non è importante. Vai, vai, dritto, dritto. Bisogna avvenire mid. Fierik, Fierik, Fierik. Oh. Buono, buono, buono. Perdono, penso fosse una buona idea. Guarda qui. Tiro dritto da mid, io, eh. Tiro dritto da mid. Andiamo a paydarli? Bravola. Vabbè. Sono dietro di loro. C'è vai, che ci flanca, vai, che ci flanca. Vado, 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 vado. Ce lo stoppo, ce lo stoppo. Non fa un cazzo, Play. Non fa un cazzo, Play. Arriva, vai. Ammazzate tutti, ammazzate tutti. Bravi, vado, vado, vado. Ma l'hai anche su Nautilus, eventualmente? Perfetto. Vediamo il suo red. Lasciami nel farm proprio. Il game è finito, quindi. Quanto hai l'item, però? Fatemi pushare, prendo la torre bot. No, occhio, beh, potrebbe essere bot. No, me la pavano. Vai, bec, bec. Sto posto, sto posto. Però noi vogliamo resettare, considero. Quindi facciamo le cose insieme. Ok, ok, ok. Resettiamo, ci prendiamo item. Va bene, va bene, va bene, safe, safe. Sì, 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 sì. Ok, vai bot. Ok, il Nautilus è il... Allora, il primo focus è uccidere Vai, il secondo è pilarmi da Nasus. Tanto l'obiettivo è sempre quello, pilarmi. Ma sei sicuro che non vuoi il nical? Ti lavo lo slow, ti lavo tutto. Sì, sì, adesso sì, adesso sì. Però prima serve il Vai. Le hai attivati, Tommy? Sì, sì, sì. C'è la la corancina. Prima di red. Ok, abbiamo anche Shyvana che ha quasi tre item, quindi... ...c'è adesso one shot a qualsiasi cosa. Ok, minuto stop. Allora, regruppiamo e pushiamo il Dryo. Se push hanno il posto... Quanto, Jenny, che il tuo obiettivo è quello di pushare e poi venire in mid lane. Cioè, è la redazione il tuo obiettivo, questo game. Non è stare inside. Io ti posso ruotare già ora, posso guardare. Control qui. L'obiettivo è sempre prendere prova e poi ti muori. Prevision, nice. Prevision, nice. Prevision. Sto ruotando, sto ruotando, sì, sì. Oh, ora vai. Arrivo. Porco. Minuto. Pusha top, pusha top. Mi sembra il farm, Pierrick, che prendi quello in bot. Sì, prendevo giusto un po' di furia. Non abbiamo il TP, quindi siamo 4 contro 5. Non ho il TP, poi se ho occhio, occhio. Aspettatemi, aspettatemi. Non facciamoci ingaggiare. Con lo stop c'è l'eye app, tutto app, quindi non possiamo fare un cazzo. Cioè, nasce il tra dire... No, questo è legale, questo è legale. Vai, 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 chiudo, 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 chiudo. Per target, per target. Due secondi, la slow, due secondi, la slow. Dietro, dietro, Pierrick, di tra... Si prende, si prende. Ok. Posso andare, posso andare, posso andare. Tenuti un po'. Vai, 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 vai. Te la follow, te la seguo, te la seguo. Ok, lontani da naso, non c'è più la ulti. Ottimo. Dobbiamo fare il natural traventi? Fattibile. No. No, non credo. No, lì andava bene, ragazzi, perché ho tenuto naso, scuola, solti tutto il tempo, quindi dopo non potrà più fightare. Cioè, io sono renecton in late, se faccio sta roba qua va bene. O che si poteva fare, forse. Se non muoio meglio, però... A me va benissimo, così. Prendete le pink? Dai, tanto lo rifacciamo, sto scherzetto. Eh, ma non ce lo stoppo, cioè, adesso. Nel problema. Raking 20. Conta, quando avrai il Mikael, puoi usarlo anche sulla W di Nasus, che mi dà molto fastidio. Sì, è quella e... Sì, 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 quella viene. Eh sì, l'idea è quella. Quanto ti manca? Ci andiamo al Drake? Eh sì, assolutamente. Fatemi tippare, fatemi tippare prima. Sono... Sono pieno. Non lo chivappiamo. Ma allora chivappiamo, è questo Drake. Dobbiamo andare in zona area, zona baron, eh. Faccio un mid, magari, una play. Non vai dietro. Non so se... Mi mettete una pick, una pick, una ward, una ward, una ward. Arrivando, sono arrivando. Una ward, una ward. Arriva, arriva, arriva. Ok. Asce, asce, asce. Tiri come si, tiri, tiri. Ho lei in uno. Ok, sono tutti lì. Occhio a Minuz, ragazzi, è molto forte. Ok, è presa. Arriva, 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 arriva. Facciamo il live di finire la ulti. Non dovete fightare, per forza, eh. Se ignorate Minuz è buono. No, no, ora... Cercate di andarmene. E lo kaitate. C'è anche Nasus. A posto, a posto, a posto, a posto, a posto. Sì, sì, la uccide, la uccide. Io mi sono di me. No, quello non sono me. Quello non è me. No, no, stai l'antano, stai l'antano, non serve. Non serve. Non serve, pericolo. Ho sopravvalutato i danni che avevamo. Lo ammetto. La domanda è se lo facciamo adesso. Oh, è guarda che... Nasus, sottiami le palle. Ok. Ok. L'importante è che se un Asus ha 50 secondi, secondo me possiamo farlo il Nasher. Siamo andati in zona. Io ho l'amica, l'ho l'attenere? Sì, sì, vai, vai, vai. È importante, non c'ho planza adesso. Me lo lasci, me lo lasci, me lo lasci. Adesso lo sciogin. Ok, ce l'ho stato. Siamo un po' in ritardo questo Nasher, però adesso. Vabbè, non lo fanno. Beh, Nasus 20 noi ci siamo in realtà, eh. Ah no. Ok, back. Ruotiamo topside, ce la facciamo. Possiamo ruotare, se volete. Io ho pusho top, poi ruotiamo, facciamo un pick, vediamo. E... Beh, a sti appunto resetto per l'item. No, no, la web top è già pusciata, stiamo insieme a S5. Ok, io ho entrambi le summoner tra questo minutaggio, praticamente dobbiamo fatiare con questo, possibilmente. Guarda, fresca qui, occhio top. Cannon no flash, cannon no flash, cannon no flash, cannon no flash. Ci sono? Me lo faccio, me lo faccio, me lo faccio. Chi è questo? Lo sto andando a prendere, eh? Qui, 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 qui. Arriva, 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 arriva. Ok, dammi di me. Non so rispondare, cazzo. Ok, ho ancora ultimità. Ok, forse... No, brutta... Pusciate, pusciate le viva del passo. State lì, state lì, state lì, state lì, state lì. Ok, usciate. Ma Minutes si rifà tutto, è troppo grosso adesso. Via, 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 lasciate i nasci. Lasciamo stare. Ah, sei sicuro? Sì, sì. Ma andiamo, andiamo, fidati, 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 fidati. Perché, 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 scusami? Porco d***o, lo Sterak, sono gigante. Ma non abbiamo danni. C'è Nasus con l'ultimo, ragazzi, lo avete visto prima. No, lo chiliamo Nasus. Ma ci giriamo all'ultimo su una... Va bene, dai, andiamo... Ci ammazza prima! Va bene, va bene, è safe, va bene, è sesso. Possiamo semplicemente camminare in cinque? Che cosa ci vuole, ragazzi? Andiamo, 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 giusto, giusto. Tu, Jennifer, vale mille gold, cioè non ne vale la pena rischiare così. Sono tanti soldi. Allora, focus, focus, che... Come la giochiamo, come la vogliamo giocare? Dobbiamo semplicemente stare... Se muore Nasus, è finito il game per loro. Ok, ok, ok. Allora, ci uccidiamo Vali e poi aiutiamo a zero su Nasus. Ok, io ho il TP in 40, flash in 5. Adesso c'ho tutto atto, quindi... 40 secondi e poi... Sì, 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 40 secondi e fightiamo. Occhio a loro potete bruttare con Nasce. Siamo uniti, per favore, vieni con Galen. Arrivo. Ho il flash, io, se volete. Sì. Ok. La ulti di Garen su Nasus, per favore. Ok, ok, ok. Allora, spiegare sugli altri. Ok. Prima, focus, via. Sì. Gaggen? Guarda. Arrivo, 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 arrivo. Una mano? Via, via, via. Quanto stiamo? Due per due. Dai, non è bruttissimo. Abbiamo nato stieto. Tanto facciamo perdere il baron. Ah, ma non posso stare a uscire. No, no, no. Ok, se io non ve lo posso ultare, Minuz, non lo tiro giù. Cioè, mi pulisco tutti gli altri, piuttosto. Vabbè, 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 vabbè. Noi cerchiamo di pelare. Non ce la fa, non si può, non si può. Vai per gli altri, vai per gli altri. Hanno usato flash di Kennen, mi pare. Cosa posso fare adesso come quarto oggetto? Non ci sono mai arrivato su Renekton nella build Legit. Andiamo TP. Shamed? Ma riesci a curarti? Io mi devo curarmi. No, non c'ho troppo. Vado anti-al. Però sì, un pochino. Qual TP, io, boys? Se vogliamo affettare... Multi tra dieci. Beh, Nasus c'ha la R, però. Eccolo. Ah, via, via, ha lasciato. Lasciamo al drago. Allora. E io ho bisogno del PSS, mi so. Allora, sicuramente in fighter non vinciamo, ragazzi. Cioè, questo è sicuro troppo. Cioè, facciamo un pick inside e poi 5v4 ci proviamo. No, 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 niente pick inside, niente pick inside. No, no. Secondo me il fighter è buono, sinceramente. Bisogna semplicemente pilare. Bisogna semplicemente zonare. Cioè, esiste abbastanza... Io non riesco a pilare Creon, però. Ma tu ti ammazzare gli altri. Ti ammazzo gli altri. Eh, ok. Oh, scusa. Ok, premiamo così, premiamo così. Io non ho summoner adesso, quindi dobbiamo giocare sotto torri. Non ti doi laia. Solo là ho il... E il Mikel là. Non proviamo a fare un pick pazzo? Tipo, tutti e cinque in un cespuglio, poi killiamo. In tutto andiamo insieme. Prima l'apraio. Qua no. Perché hanno ulteri di asce. E noi insieme in base, occhio. Quanto ti manca il PC con Renek? Vieni a prendere extra. Il 16, ecco. In teoria... Molto poco. Lasciatemi il farm quando è possibile, ragazzi. A cinque item vinco da solo, sta partita. Ah, è un 16. Un bot anche? Qualti più io? Dai, che c'era voi. No. Push up e bot. Ti puoi fare questo? Il Cargoyle su Renekton adesso. Fieric, dovresti ruotare bot. Ci sto andando? Ah, non è il game. No, sto andando io. Sto andando io. L'ha lasciato mio, fa stare. Ehi, siamo qua. Siamo qua, entri. Sì. Nasus è top. Nasus è full build, eh? Yeah. Vai, rasata. Lexus, l'ho metto su Nasus o su vai? Sempre in Nasus. Sempre in Nasus. Vai, non c'è più danni a questo punto. Con quella build. Ok. Maggi, ma io? Guarda, spara volendo. Potremmo provare a... Eh, saranno tutte e cinque, una giungla top. Quindi sarà paura d'auto. Bici alla GA. Ok. Ho il cleanse, e c'ho KSS, c'ho... Flash tra un minuto. 500 gold. Aspetta, c'è la mid wave. Tra i bot anche grande. Più un milleturo. Prende la dovendo peso. Mi sa che questa non la possiamo... Ok, si possono contestare. Ora lasciamo bot a zeri. Prende item e poi premiamo fedele. Slide the moon. Tanto Nasus sì, le stack, però un po' più prendere oggetti, non prende più livelli, quindi... Possiamo diventare più forti. Ok. Non c'è il retreat. Io ho pure a stare quei mid. Non so se ci sto. No, lì non c'è il t-rush. Sto resettando. Hai item? Sì, sì, c'ho l'item. Sono tutti top side che stanno rotando. Ok mid, ok mid. Di tre già. Fai il giro largo tu, vieni da qua. Non c'è il red. Faccio la crema. Non fu l'item tra mille gold. È sempre la guarda, al bar. Nice, nice. Scommi sono qui, eh. Dobbiamo stare uniti, dobbiamo stare uniti. Dobbiamo riprendere mid-light e prendere vision al bar. Oh, ecco, stanno unitando. È niente per loro fare sta roba, mi sa, eh. Già ne prende un sacco di tempo. Oh. Ma? Con calma, con calma, con calma, con calma. No, no, no. Piano, piano, piano. Porco. Cerca di salvarti, cerca di salvarti. Via, 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 richi. Ok, prendi la wave. Kill la tua spawn, ma. Scusate, ve lo aspettavo, scusate, scusate. Il drago tra 40. Non c'ho le summer, però, adesso. Flash, il naso sta flashato. Sì. Non c'è un ward in mezzo alla giungla. Nasce lo flash. Sì, il naso sta flash. Kennen mi sa che ha flashato pure. È il drago che si fa? Ora, insomma, arrivano tutti. Io sono la R. C'è anche il TP. Loro non hanno R. Ciò lo fai darlo? Vada a venire. Sì, 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 noi ce la facciamo. Allora, dobbiamo fai darlo. Non ha stopwatch. Sono tutti qui. Vede qua. Sto andando facendo. Sì. È buono, è buono. Che tragedia, ragazzi. All'idea, forse. Ok. Io comunque non c'ero ancora. No, ma abbiamo trovato prima, dopo il Baron abbiamo regalato 6 shutdown, più torri, più bambi, varie. Unlucky. È la BCS degli underdog questa. Vabbè, dai, almeno non ho problema a fare il meet and greet domeni. Unlucky. Sì, dai, è stato divertente. Giocare in allegria. GG, ragazzi. Anche se non è andata come volevate, comunque sarà una bella partita. Dalla regione vogliono prima andare tutti quanti insieme appassionatamente. Abbiamo la camma e devo metterla di là. Ah, giusto. Aspettate che... Mi denudo che è un caldo adesso. Dopo queste partite. Vabbè, alla fine è sempre Nasus Difference, ragazzi. Il campione forte del mondo, la gente lo capirà. Sarà too late, comunque. L'apo... Pernoattrice. L'apoernoattrice. Eh, che trovo, hanno scalato, purtroppo. Nasus ha scalato, soprattutto. Aveva una comp da fight che era meglio della nostra. Questo pure va detto. No, Renekton, Garin, c'avevamo i champ degli stupidi. Vabbè. No, Renekton. No, Renekton. No, Renekton.